Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi andremo a fare raga l'OTR per fare lo scambio veicoli massivo e per fare il CON2COM Link in descrizione raga per il glitch CON2COM e lo scambio alla base Quindi requisiti di fare questo OTR raga semplicemente dobbiamo possedere il CEO quindi l'assicuro server con organizzazioni E una volta che abbiamo comprato il nostro CEO e siamo all'interno del CEO dobbiamo dirigerci qua dove c'è il divano e la tv Quindi ragazzi dovremmo andare ad accendere la tv come l'accendete se l'avete spenta Cliccate una volta freccia destra, ricliccherete freccia destra e poi premete Y o triangolo per uscire In questa maniera accenderete la tv Poi vi girate verso il divano e aprite il menu di pausa ragazzi E dovremmo fare un trick con il criminal quindi solo PS4 e Xbox One ragazzi Il trick sta qua dobbiamo tenere premuto il menu di pausa ragazzi Cliccare AOX per accettare il criminal e subito dopo mollare il menu di pausa e tenere premuto il menu interazione o il touchpad In modo tale da avere il menu interazione bugato dentro il criminal Quindi adesso mi riuscirà, tengo premuto il menu di pausa, clicco una volta AOX, mollo il menu di pausa e tengo premuto il menu interazione o il touchpad E come vedete mi si è aperto il menu interazione o il touchpad se giocate da play Ora lo chiudete con B o cerchio ragazzi e giocate con le freccette sinistra destra su e giù del pad In modo tale da fare comparire queste scritte che vedete adesso Una volta che sono comparse queste scritte raga cosa dobbiamo fare Prendiamo l'analogico sinistro lo giriamo verso sinistra e lo premiamo ragazzi E a questo punto vedete che staremo guardando chi sta in lobby con noi Ovviamente dovete avere un amico che sia in lobby con voi Quindi a questo punto con le freccette andiamo su proprietà, clicchiamo una volta AOX Andiamo su ufficio della Mezbank, clicchiamo una volta AOX Se riuscite a muovervi usate il touchpad voi da PS E in questa schermata clicchiamo direttamente AOX per chi gioca da PS A questo punto andremo sul nostro CEO e andiamo a fare una modifica Semplicemente il colore del nome ragazzi Una volta che abbiamo fatto il colore del nome cambiato Clicchiamo su modifica e accettiamo acquista Spammiamo A finché non ci da questa schermata A questo punto ragazzi chiudiamo il sito con Y o triangolo se giocate da play E saremo già buggati Adesso dobbiamo uscire dal CEO ragazzi E per uscire dal CEO o vi teleportate con un'attività e Anawak Se non avete la possibilità di teleportarvi fate come ho fatto io Fate creare un'attività a un vostro amico Quindi quelle sparse per la mappa la fate avviare E vi fate invitare Una volta che siete poi all'interno dell'attività Vi fate espellere, vi fate cacciare fuori raga E spada bam Saremo buggati in OTR per scambiare con i nostri amici Con la base massivo ragazzi E se invece volete far prendere Aerei, Terabyte o quello che vi piace di più Raga andate per fare il conto copy di Sandy Shores Metto il link in descrizione di tutti i tuoi video Ovviamente il metodo per buggarsi è questo per entrambi Bella raga, alla prossima Spada bam Musica 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 Musica